Se tu hai vissuto tutta la vita vedendo di merda e poi ti metti gli occhiali la prima volta A sentire con le orecchie A toccare con le mani Odorare col naso Ti vorrei rendere quadriplegico e poi voglio vedere A cominciare a camminare Lavo Lothar grazie per i venti mesi Ma è gravissimo Ma ragazzi Vabbè Sara Gli ho un po' di tetrodotossina Non è così difficile Quanto pesi Questo è partito dai gaccia Ma Lapo vede con gli occhiali Ragazzi è su un altro livello Non possiamo competere Cioè immaginatelo senza occhiali Poi gli metti gli occhiali Esatto Dillo allora Martina A croatomist che ha fatto l'operazione Purina è tutta contenta Che adesso vede senza occhiali Spiegagli mo' che solo con gli occhiali effettivamente può Eh Si vede solo con gli occhiali Spiegaglielo Se tu metti di nuovo gli occhiali Diventi ancora più forte Prima vedevo Prima vedevo Dove sono i miei occhiali C'ha tre fasi Eh si La fase in cui fumi La fase in cui stai fatto La fase in cui ti sale La fase in cui ti mangi Capito È la fase in cui scende Che fame che c'ho Bertra sei già nella terza fase? Sì Noi sono costantemente Ah già Se non sente ancora l'odore del bacon provenire da fuori è finita Vabbè Vabbè Sono dei poliziotti Muori Bertra ma Bertra nel mente sta arredando la sua casa Comunque Non so se voi vedete Sto giocando a The Sims Sta No no Sta Sì Nella vita reale praticamente Non so se sento Ah si sento Sento Sta costruendo immobili Sto attaccando i led Sì ma oggi Questo è già il secondo che attacca Poi è uscito da Ikea Cosa fa? È uscito da Bo Un posto che vende i led Non so bene cosa sia Eh Ledland Ledland Mondo led Noablo Noablo Espanol Donde sta la discoteca Oh no Bertra non riesce ad attaccare un led Beh lo so Bet Bertra non ha mai Però non è molto bravo I cavi sono molto poco estetici In che senso? No mi hanno contattata per un cai No no ma mi hanno contattata Intendi per streamarlo Tipo No ma mi hanno contattata Io non avevo visto la mail L'ho vista molto tardi Però mi avevano contattato Ma no no però posso dirti una cosa Tolti i cavi È tutto così storto In una maniera veramente Indecente Ma poi c'è un cavo che va sotto un altro Un è dritto L'altro inclinato Dovete farmi delle No no l'ho fatta Ma l'ho fatta Bacini in bacini Bacini in bacini Questa è l'unica cosa Bacini in bacini No 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 proprio i segoni Ma sta No 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 proprio i segoni No quella Non hai alle armi Tu fai le seghe con la bocca Non ho capito Bertra Mi hai abituato così I miei piedi non fanno quei suoni No raga è come quella Come la prima volta che fai una sega con le mani Allora ragazzi Giochiamo a Among Us Among Us Non c'è questo gioco Non so come funziona Non c'hai mai giocato Lapo? Bacini Guarda l'ultima volta che l'ha detto Ok mi sa che vieni Ok ok Non c'è che vincere questo gioco Lapo Lapo non hai mai giocato ad Among Us quindi? Mai No mai giocato Oh allora inculi anche a me ora? Perché lo dici come se fosse una cosa piacevole Bertra? Venerdì normale Quello è venerdì normale Bertra Ok a posto Però oggi è come idea Eh vabbè li tagli Vabbè due volte una settimana Shame Se sei thirsty non è mica colpa mia Thirsty Te l'ha detto in English Thirsty but you can see only with glasses Tua mafia e tu è daily Genshin Le ho già finite Oh che brava Grazie Oh rispetto Cosa sono questi dissing di Genshin? Non so Solo in video Sono fuori dalla zona raga Poi rimane perché sono suo amico Ok va bene Perché se sono amico Poi fare la partita di Dello gioco della mom L'ho già fatto esattamente Sei minuti fa Cioè Aspetta scaricarlo mi sono dimenticato Vabbè ci metti Sono tipo 20 Esatto C'è proprio una roba minuscola Se avessi una connessione umana Però abito in Sudafrica E quindi qua ci abbiamo la un mega Oh bravo No no Semplicemente non l'ho fatto gratos Non mi va di giocare un altro gaggio C'è effettivamente la fibro ottica In Sudafrica Porca miseria Eh sai c'era Elon Musk E l'apartheid Io vi sto in appartamento lì Tranquillo C'è mila euro a notte Io comunque non capisco tutto questo Questa cosa che dicono Gli apartheid Gli apartheid in Sudafrica Cioè a Milano questo è un botto di fuga Gli apartheid Eh no Questo sono gli apartheid Non voglio più esprimermi in merito Voglio solo uscire Beh tra ripetizioni in questo gioco Ok come dobbiamo entrare Perfua L'apartheid Cioè io di solito le time out o ste battute Hai capito? E posso scriverlo sull'africano E posso scriverlo sull'africano La fordide Non riesce a finire la battuta Che sta già ridendo Capito? Cioè Allora ragazzi Non è un grade comico Per entrare nella Nella stanza di Amogus Basta che aprite discord E sul live rec C'è open chat La roba dei messaggini E lì c'è il codice Ma è entrato D'Arz Ciao Ciao Ma allora non sono in ritardo No Ti abbiamo aspettato Ah mi avete aspettato Chiaro Certo Gentilissimi Vi siete messi tutti d'accordo per me Sì Tutti d'accordo per te Che figata Adesso però devi mandarci una foto di tuoi piedini Da tutti Esatto Mi sa che ce l'hai pure Cioè accontentati in attiva Tanto quelli sono sempre Come il 2019 Stessi piedi Non mi trovo al game Bertra Mi sono spiaccato Mi sono spiaccato un'unghia Perché ho messo TN per tutte le squadre Ah devi mettere il server EU Magari stai in Ah sì Anche Alexa accendi tutti i monitor Per lo stream sniping Eccolo lì Aspetta A posto Beh Axel Ce l'hai dite? Sì sì Mo mi lascio la connessione Quanto ne ho aperte Effettivamente a tenere 753 schede Ok Ma chi è Terry Crews? Ma sai come potrei? Come chi è Terry Crews? Ok scusate Ademi ragazzo Mi chiederò più E' una domanda innocente Poverina Non lo fa Vabbè Ha un cappello Cioè chi vuoi che sia Assolutamente Vabbè Allora Ciao Lota Grazie per i 20 Io Io manco Io manco Io manco Io 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 Scegli un codice amico Non credo No aspetta Ci sono i referral su Among Us C'è il referral Sì Per comprare i fagioli Madonna i fagioli È vero No no esci esci Da lì Perché ho 40 di ping? Ma ringrazia che c'hai 40 Torco giù Stai nel lusso Stai Che vuol dire Ma non posso scegliere io Il ping è 120 Quando ammazzi una persona Guarda chiedere le porte Tipo No no questo è il codice amico Esci Oh non me fa entrare Eccola Scusate ma Quelli che sono a Milano Quanto hanno di ping? Eh non lo so No 44 46 Io 41 ora Io sono Ora dei cavalli Minchia Io sono Tra 21 Sono spizzato a 170 370 318 500 700 800 1000 Raga dov'è che avete messo Le cose della partita? Devi andare in privata Dove c'è Inserisci codice L'unica roba Nascondi la schermata Perché Sì sì Dove? Il codice sta In questa stanza C'è open chat Ah ok Open chat C'è la stream Per evitare tutto quanto Perché ho 3000 di ping? Non ti preoccupare Non è vero Perché l'Arts Ha una connessione Ah c'è la stream mod Perfetto Allora Vabbè Vado Sottirpato Beh Vabbè Stream mod Sinistra Destra Sinistra Sinistra Eccola Perfetto Quindi adesso non si dovrebbe vedere Esatto E ora vai su online Inserisci codice Inserisci il codice Metti chat libero E entri Se non si trova tanto sei sul server nord americano No no l'ha messo Europa No sto cercando open chat Qua No è morto il server Niente di me Sorry Lì dove vedi tutto di chat Solo chat rapida O chat libera 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 Ah ma c'è Cervo Ciao Cervo Ciao Axel Sono un grande fan Anch'io tuo Oh ciao Cervo Ciao Sara Ciao Che bello che giochiamo insieme Pazzesco Incredibile Assurdo se ci pensi Allora raga io già vi dico Vi chiamo scusa Per chi purtroppo Dovrà essere impostore come me Perché io odio essere impostore Adesso c'è il ruolo più stupido di questo gioco Ovvero quello inutile del crewmate E nulla questo Mi dispiace Sì se è capito con te Tu ti dichiari un'altra volta Io salgo Lapo Mi giro il codice Non lo trovo Sì te lo giro È qui su live rec È l'ultimo messo E rage Se invece mi dichiaro però Mi dichiaro come Grazie Io ho paura delle donne Infatti quando è entrata curo lì Mi sono caccato addosso Incredibile Foto Ho questo potere No sì se lo lasciamo Non darmi Non darmi i poteri Puoi far cagare addosso una persona Sara Come ti senti Pazzesco Se lo siamo io e Ah ok Mi dice modalità sì Modalità errata Mi dice Eh allora devi mettere Free chat Sì esatto Fai come hai fatto prima Codice sotto Tipo di chat Chat libera Conicberry Scusate Conicberry Non mi ricordavo più come si giocava Tipico momento Conicberry Ok manca ancora una persona però Perché mi chiamo conicberry Io avevo un nome una volta Perché Quelli di Amogus Sono razzisti Io non posso nemmeno chiamarmi Puoi cambiare il nome Puoi cambiare il nome Vabbè No io rimango Siamo tutti Posso partire Mi chiedo di cambiarlo Solo perché Se no Non vedi i colori Se no poi Ah è vero raro Importantissimo Axel è dal tonico Vero Axel è dal tonico Ok Axel non vede neanche Con gli occhiali Quindi se si chiama Se fa una call strana Quindi cosa possiamo fare Prendetele Prenderlo in giro Sei protanopico Axel sei protanopico Deuteranomalia Ah Deuteranopi Ok Dimmi che cosa che io conosco Deuteranomalia Sì ma fa finta di essere dal tonico Ci vedete Io parto Mentre voi dite queste parole strane Mutatevi Ciao Allora raga Come funziona Aspetta ci si muta Ora che si entra in game Quelli morti poi possono smutarsi Ok E poi si muta Quando ci si riparla Ok ciao Va bene Ciao Perfetto Com'è Ma che è Ci sono i ruoli Ma Ma è cambiato un sacco Oh Anche io devo fare questo Ma ci sono i ruoli Ma è cambiatissimo C'è Sono un ingegnere Cioè sono buona Ma posso usare i condotti Oh no È la madonna Povero De l'orzo Raga So fast Felici No è morto Da più di tipo Cinque secondi Ok Allora Morto appena starto del game Praticamente Sì praticamente Sì Sono lo scienziato Quindi vedo I vitali Dove l'avete trovato? C'è C'è il cooldown È la prima È il primo round Totta ho sempre dieci secondi Dove l'avete trovato? L'ho trovato in navigazione Vamo dentro la console Ho preso tipo la testa E spaccata contro il vetro Ok Per questa kill Posso escludere Totta e Bert Idem Perché se erano sopra Fare il primo Sì esatto Il primo gioco Io ho un dubbio Sul Viola conicberry Che è l'apo giusto? No conicberry sono io Vole parlare Ecco torniamo sul fatto che No io infatti C'è morto al volo Sto tizio Ok L'unica persona che ho visto Lì nelle vicinanze È comicberry È l'unica cosa che Mi sento di dire ComicSan No Perché io sono andata via Da sopra Dove c'erano totta C'era sburtra E io ho visto Ho visto uscire Effettivamente D'l'Arts E l'ho visto andare Verso navigazione Ma lì c'era qualcuno Quindi È qualcuno Che è andato a destra Prima di noi Ah vuoi far presente Per chi non lo sa Che gli impostori Che sono due Giusto Berta Non si è Uno degli impostori Può cambiare forma E prendere la forma Di un altro giocatore Quindi potrebbe essere Anche uno di quelli Secondo me È È un self report Perché Io ero a sinistra E appena sono arrivata Lì a destra Secondo me Tu l'hai pigiato Perché altrimenti Ti vedevo Minchia raga Comunque Saretta Saretta Non gioca da un anno e mezzo Eccetera Bella Incappita Mi piace Però come avrei sicuramente Constatato Stavo facendo foglie In ossigeno Nel momento in cui ti ho vista Mi sono avviato Per il cristiano Dentro la console Secondo me è self Per me è un self È assolutamente un self Noi possiamo schippare Schippiamo E teniamo d'occhio Axel E Saretta Comunque ci sono varie Dovi Vi voglio ricordare che adesso Lo accetto Possono entrare nelle botole Si Eri licenziati Non mi ricordo chi altro È L'impostore È Axel È un self Di sicuro Ciao Danny Grazie mille per i beats Grazie per il tifo Grazie Jonathan Card Allora Io sto con loro E anzi Sto vicina Perché È col cacchio Che vado da sola Io sto qua con loro Perché secondo me è Axel Così andiamo tutti insieme Vabbè Andiamo Mi faccio questa È assolutamente un self report Quello Quindi Axel Secondo me Ok Eh guarda Axel qui Mi manca che noi Mi manca che noi Gli manca Martina È navigato L'ho trovato L'ho trovato giusto fuori da navigazione Era uscito qualcuno Ma non ho visto chi fosse Allora Axel Raga è Axel È Axel Per forza Ma forse sei io Ero come F No Sei sceso dopo Sei tu No Non sei sceso Era con me Era con me Fermi Allora raga scusate Io posso dire solo Che è morto da pochissimo Qualcuno è sceso all'ultimo No ma Queria Allora io ho visto Totta scendere Poi è scesa un'altra persona Non so chi però Non ho guardato il nome Ho visto Totta Però non Cioè Ma io sono scesa con te Totta Cazzi Non sei scesa con me Totta sono scesa con te Mi stai mindfuckando No no Mi state incastrando Raga è Axel L'ha ammazzato ed è sceso Totta Ero con te Allora Non mi sembrava giallo Allora no aspetta Dico solo una cosa Non mi sembrava giallo eh Cioè Io mi ricordo Un colore scuro Raga è Axel È Axel Perché l'ha ammazzato ed è sceso O è Totta Però non credo C'era Cervo C'era Cervo che era in telecamere Avrà visto qualcosa Ha visto che c'è la telecamere Io ho visto Totta a destra Però non ho visto chi è entrato Onestamente Perché stavo guardando te Allora io posso dire una cosa Posso dire quello che io ho visionato Io poco prima della call Era veramente appena arrivato in Shields Cioè da veramente Dieci secondi tipo Manco E Sono scesa E c'era giù Axel Io non l'ho visto il corpo Quindi se il corpo era davanti a Navigation Io l'avrei visto E la persona che è venuta dopo È curo Ma se Ok No Ok Siete voi due allora Sono Totta e Axel ragazzi Cioè stanno Sono Totta e Axel Che stanno cercando di incastrarmi Cioè palesemente Io voto salto Raga fate un errore immenso Perché io sono stata Sopra con voi Tutto il tempo Proprio per farvi vedere Dato che prima ero Suz Sono stata con voi Tutto il tempo State Cioè se Buttate voi in me Fate una cazzata Perché sono Totta e Axel Che si stanno spalleggiando Palese Perché ora sono io Perché Perché hai difeso Axel Ed è palesemente lui Quindi sei Suz per me Io voto Axel Per me è Axel Raga È Axel Ragazzi è Axel Raga Chiquieti Comunque posso fare una call Chi è che difende Sara così strenuamente? Lapo Che cazzo c'entra Lapo adesso? No No È Axel Assolutamente Tenetelo d'occhio Fidatevi Ok Ok ma gli sto appiccicata Al culo Smonsi Grazie per il 67 Io lo finisco Prima questo Ok Guarda che è Axel Guarda Madonna Gli sto appiccicata Al culo Ad Axel Non mi può uccidere Non può Io non ci sto da sola Guarda Guarda che O sono Guarda adesso la fanno doppia Guarda che la fanno doppia Madonna Gli sto appiccicata Al culo Gli sto Merda Ecco Cosa? Self report Come prima Self report 100% Ragazzi Axel Cosa? Qua è 100% Cervo Bro sono entrato Cervo Come Cervo No 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 Qui stanno intorno Ma Cervo dove era scusami Io non ho mai visto Cervo Eravamo in storage Sono entrato Hanno chiuso le porte E subito Ho visto la lama Infilzare Allora Ascoltate Ho una call Ed è greve Lapo è sicuramente bravo al gioco Quindi questo bisogna tenerlo in considerazione Ma Ma Devo fare un ma La stanza si è chiusa Con quattro individui dentro Io Lapo Cervo E Totta Totta sta sgozzando Cervo Quello sicuro Cosa? Io credo Io credo Lapo abbia mancato la doppia Io abbia riportato prima Però sicuramente Sicuramente È Cervo 1 Questo Allora Io ti trasto E vi dico la mia suonaroba Io dico Cervo Ma perché? Perché io Cioè perché Allora scusa mi dici che sei un Io sono un ple Aspetta aspetta Però Lapo sei molto susa Anche te Perché nella stanza eravamo Totta tu ed io E basta Per quale motivo Che sei suspetta Fino a prima Stavamo Ah adesso si Stai ricambiando Ok 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 Va bene Va bene Lapo Va bene Gli altri hanno detto Potrebbe essere effettivamente Curo Ho controllato Guardando conto Sì Lapo Va bene Nel momento in cui Ho seguito Dico ok Non sta facendo niente Quando aveva la perfetta chance Per ucciderci Sono andato in storage Mi vedo Cervo Che letteralmente pugnale Al tizio di fronte Ero all'ì a fare report Vabbè Comunque adesso è Cervo E siamo Siamo abbastanza sicuri Mi pare di capire No no Come no Perché prima eravamo Io è Cervo a sinistra Che lui guardava le telecamere E voi eravate in quattro a destra Se lui voleva Mi sgozzava a sinistra E allora è Lapo Se non è Cervo è Lapo raga È uno dei due Visto che Cervo È la ventesima volta Che salta fuori È da votare lui Ok Ma secondo voi Ma io sono talmente Rincoglionito Che ammazzo L'unica persona Che mi stava dando manforto Sul mio essere innocente Hai sbagliato Eh no Bertra Tu trust me Sì Io ti sto trust Quindi no Ho capito Quindi chi stiamo votando Cervo Io ho votato Cervo Perché Io ho votato Cervo Ma l'unico di cui mi fidavo Che ero da votare È Lapo Secondo me Cervo non era No gravissimo Ma ragazzi Io continuo a essere Molto sus su Axel Comunque Però anche là Posto giro Mi ha un po' puzzato Tranquilla Ti dimostrerò La mia buona volontà Ok Eh sì Allora Io adesso Provo a stare da sola Con Axel Guarda Ho tampino Axel Voglio proprio vedere Gli sto addosso No L'ho perso Cazzo L'ho perso L'ho perso Non lo vedo più Merda L'ho perso Su uno dei Degli impostori E siamo in cinque Ne ammazzano uno E la partita L'abbiamo perso Quindi Facciamo un piccolo recapino Cacciamola Ok Io più su Axel Per un semplice motivo Cervo prima era con me E non ha fatto nulla Non mi ha ucciso Né niente E anzi Era le telecamere Si faceva i fatti suoi E aveva paura di me Quindi non credo Che un impostore Possa aver paura Di un altro Che un crewmate Axel È tipo stato dato fuori Il suo nome 3-4 volte E adesso Ha appena Reportato qualcuno Che io Come vi ripeto Sono uno scienziato Quindi ho i vitali E posso vedere Quando la gente muore Ero con curo lili In electricity Apre i vitali Non è morto nessuno Chiude i vitali Report Di conseguenza È un po' Difficile Quindi attualmente È detta colpa mia Allora Praticamente Era un incattro In quella stanza Aspetta aspetta Uno di quella stanza È stato chiccato Di conseguenza Mancano gli altri tre Se abbiamo beccato uno È un impostore Se no Tra gli altri tre Ci stanno due impostori Ah c'è da dire una cosa Axel era effettivamente In range Forse ha cliccato report Invece che cliccare kill Non sono così stupido C'è allora Il discorso di prima Soprattutto Eh io l'apo è bravo A giocare con questo gioco Che cazzo Di discorso è allora Che cazzo vuol dire Skill issue Che scusso è Che scusso è Che scusso è Allora 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 Io mi senti dire Aspetta Nade Vai dimmi tutto L'hai fatta La task dei cavi? Assolutamente no Non c'è C'è quello della carta Stardo Alla Lucky Stardo No scusate Io ho un'altra domanda L'apo Chi altro vedi rosso? Ah Io ti posso dire Che sono rosso Ma però Io voto l'apo Io voto Axel Anch'io voto Axel No raga Una puttanata Una puttanata Porca merda Che bestie Che siete Sei troppo sus Mi spiace Vivrai con i tuoi fallimenti Questa è stata Veramente Un'intata Di dimensioni Stratosferiche È l'apo Punto Allora È l'apo Cioè Se non è finita È l'apo Perché se non è finita Sei tu Merda È l'apo È l'apo È l'apo È l'apo La sbultra Non è Non è l'apo Non credo Che riusciamo In tempo Qua a finire Cosa è che devo fare Qua? Ah A posto Oh no Luce 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 No L'ho perso Merda Ma dov'è? Cazzo Io ho paura Che l'altro Sia l'apo Io non Non vedo più I miei Report Dove? A destra Io non mi ricordo I nomi delle stanze Nel corridoio Però ho visto Ragazzi Ho visto Passare L'apo Che andava Da destra Verso sinistra Per me è lui Cioè a sto punto Sì Potrebbe essere un self report tuo Scusa allora Non è un self report mio Sei tu Per quale motivo? Perché Perché No Siamo stati insieme Tutto il tempo Sei tu Siamo stati insieme Tutto il tempo Bertra e Dio Quindi sei tu Bertra e Dio Bertra e Dio Ti dico venerdì sera Ti dico venerdì sera Bravo a giocare a questo gioco E infatti mi ammazza sempre Yeah We won Ma quindi aspetta Erano Lapo Lapo e Axel O Lapo e Lapo e Ho dovuto buttare Cervo sotto un ponte Mi dispiace Erano Lapo e Cervo Ok E perché il cazzo non mi ha ucciso Cervo? Ah non lo so Grazie Stava facendo un alibi A me ha ucciso con una cattiveria Cioè io sono entrato in storia Ci sono chiude le porte Ho detto dai vabbè siamo in dieci sti cazzi Ma è Patwitch Grazie per i venti mesi Grazie anche a Smonsi per i 67 Ben tornato E a Maxino per i 6 Thank you Vabbè Axel tu sei imbarazzante Con l'autoclicker Ma quindi Axel non sei mai stato tu No Axel era bravo Quindi tu eri nel posto sbagliato Al momento sbagliato poverino E sono fatto accanimento Perché so dal tonico Grazie No è perché eri sempre nel posto Dove c'era la kill Mi dispiace E in più eri pure dal tonico Era quello il problema Manca Dolorz Manca solo Dolorz Poverino Dolorz ti giuro che non ti uccide E poi mi hai insospettito molto Perché mi hai dato contro E quindi ho pensato che fosse Una tua tattica per sviare Se uno ti dà contro E allora No è che Mi vuoi racchegare perché ad un certo punto Volevi votare contro di me Eccolo Perché stavi difendendo Axel E Axel mi stava dando contro Quindi pensavo che foste insieme Comunque figa 40 secondi Cooldown Per le kill È veramente tanto No è normale No è giusto È normale È giusto È giusto Oddio Io non so come funziona Però il mutaforma qua Cioè io non l'ho mai usato Il mutaforma Allora Al primo mi faccio l'alibi Non ho visto se c'è qualcuno Mi è morto Era delle camere Contate È morto È morto È morto C'ero io Telecamere Io e Terry Ero io con te Confermo Sì però non ho visto nulla di interessante Kill abbastanza fresca Sette secondi fa Dieci secondi fa Ho visto solo Nade Che dal corrido Io ne trasseguire direttore Sono sempre lo scienziato di turno Non lo so Sono a laurea in scienza Ma come fai Essere lo scienziato Eh che cazzo devo dire Sono io Sono due E se ne sono due Ma perché Puoi vedere se la kill è fresca Posso vedere i vitali Vedo quando qualcuno muore Ma sono robe in più Che hanno aggiunto Eh sì Fate Fate la La conta delle posizioni Dove eravate? Admin Servo era in admin Ho visto mentre faceva il download E io sono sceso sotto A vedere i pallini Da elettrici di ariattore Io ero appena entrata in armeria Che cazzo è in armeria? Alto a sinistra A destra scusami Meteoriti Ui punzi Ne quanti cazzo di amici Da sto stanzi Perché droga? Armeri Tani? Sì? Dov'eri? Io ho fatto due task Tipo Boh La parte quella tutta A destra Verso la punta E ho beccato tipo Uno di voi Che veniva Con l'arancione Chi era? Ah Quello che è morto Al culo Vabbè Comunque ho fatto Tipo due tre task Poi sono andato in electrical E là C'è stata la chiamata Però Cioè aspetta Lo posso dire? Lo dico totta Vai dillo 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 Non sono stato io Io mi chiedo raga Io mi fido sinceramente A me piace sempre La punchline Io mi fido sempre Quando mi dice Che non è stato io Arcadia Eh beh Non ho Non ho imparato Eh schifiamo Schifiamo Ma perché avete i livelli? Ci ho fatto caso adesso Che ci sono i livelli? Sì perché hanno fatto Degli upgrade a sto gioco Incredibile Ma vero Raga io ho visto L'assassino comunque Scusate Prima di schifare Avrei una domanda Ma perché eravamo In 70 a sinistra Questo muore Dov'è a destra giusto? E non si riesce A farla conta Non è a destra Non so dov'è il cadavere Non ho ancora capito Dov'è Perfetto Ah niente All'acchi Eh non sta Axel Scusate Dov'è il cadavere? Ho già detto Navigation Ah E' a destra Allora è colpa Di The Arts Chiaro Io sto giro Va da sinistra In tozza In due così Non è efficace Però Non posso farla Ancora No Allora aspetta Grande Ok Non sto Fatte ora Proprio ora Eh Io sono In navigation Allora Io ho visto passare Una persona In In coso Come si chiama Porca troia Non so i nomi Aspetta Localizza In alto sinistra Motore inferiore Motore inferiore E E poi ho visto passare Totta In basso Verso la stiva E poi ho visto Anche un'altra persona Ma non mi ricordo Forse era il nero Rages Forse ti ho visto A te Rages Dov'è Dov'è Siamo incrociati Ci siamo incrociati Tu eri in elettrica Al fermo Ho attiato l'emergency Ah è attiato l'emergency L'ultima volta Ho visto cervo Era uscito Dalle telecamere E poi ho visto Adlarz Spuntare Dalle telecamere Allora C'era uno In telecamere Sicuro Perchè Navigation Scusate Ma fai Parla a Axel Che ha collato La cosa Io ho collato Gaiotti Ad un bottone Non serve a un cazzo Axel E perché l'hai fatto Scusa Perché così Non troviamo I cadaveri Esatto Che sono il killer Ho visto Dal mad I due morti Pensavo Uno fosse admin Perché io Però la cosa Mi viene da chiedere Chi era elettrico O rage C'era Curolini Io ho visto Rages Sì Confermo Non mi ricordo Gli altri due Che sono entrati Eri entrato in due Poi dopo Di me Che io sono uscito Io sono uscita Prima di te Con cervo Mi sa Com'eri Sei uscita Prima di me Non è possibile No hai ragione No scusami È vero Sei uscito Prima tu Scusa Scusa È vero Farà Dimmi Hai fatti i cavi No non c'erano A posto Vabbè Se la spiego così per la prossima volta Lo saprai Ok C'è una common task Che tutti quanti hanno uguale E è o i cavi O la tessera Quindi Ok Era I cavi Esatto Non so Non la so Sta roba Che mi stai dicendo In questo momento Ti sta accusando Perché lui ti ha chiesto Hai fatto i cavi E tu No non ci sono Quando in realtà ci sono Quindi Ma io non ho fatto Nessun cavo È quello Per cui ti sta accusando Perché in realtà Ci sono da fare Eh ma magari Li devo ancora fare Nel senso Finito Mazzò tutti Prima di morire Che cazzo Eh mi son fregata Da sola Che cazzo Non so Cosa sono i cavi Ma è stata L'alampicata Sugli specchi Ma non so Che sono Sti cavi Parola con la C È detto C***o Proprio quella Eh sì Perché c'è un piccolo problema Siamo vivi sempre in sei E loro sono sempre in due E quindi tocca un attimino Tirare le somme Sì Quindi due più due fa quattro Ho fatto le somme È posto Esatto E la propria Io francamente Non lo so Sento Fuzza di Fuzza di Di Dlarz Occhio occhio eh C'è un po' d'odore di sangue Ma aspetta 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 Nade Aspetta Dlarz 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 Raga Dlarz era con me Non mi ha ucciso Oh capito Eh ma magari c'era Killer Magari c'era il cooldown Anche Cervo prima era con me Non mi ha ucciso Eppure Ragazzi io sto facendo Un botto di task Cioè veramente Questa mancazza di rispetto Proprio Veramente Gratuita Dlarz è mutato Quando è impostore Ed è mutato Quando è crewmate Cioè non ti lascia informazioni Non ti aiuta in nessun caso Ma questo sai come si chiama Si chiama S La problematica è che comunque dobbiamo decidere qualcuno da votare Quindi O se no aspettiamo la doppia Sara Se dovresti sparare in testa anche uno sparare a Sara A me eh C'è un po' di arretrato C'è un po' di arretrato Io sparerei in testa sia a Curo Lili che a Dlarz Vabbè purtroppo Un po' di arretrato Non lo so 6 e 1 Io ti dico a Dlarz Perché sono sicuro al 100% Gli altri non ho informazioni Vabbè allora siamo a Dlarz Andiamo a Dlarz Grazie a Dlarz Sono sicuro al 100% No non so sicuro Sei l'unico su cui ho mezzo informazione E quello L'unica Ma se per me Sara È l'unica palese Però possiamo dare Sì ma Se sbagliamo Siamo fatti Ma fate voi ragazzi Cioè voi dite io voto Però non ho la più palida idea Va bene ragazzi Votatemi Non farò altro Che andare di là E fischiare Non sei d'aiuto Cazzo Non sei d'aiuto Però è così strafottente Che è palesemente Crivo Per me Per me non è Dlarz Fate cazzata Però Era con me Non mi ha ucciso Però Quindi Ok Io voto Dlarz Io voto Su Sara Rai giusto Su al tuo buon senso Quanto ti prendi Per fare una ringa Al posto mio Non le so fare Le a ring Allora falla Io ho detto Solo che eri con me Io più di così Non posso fare E ho Più di dire Che ero con te E che non mi hai ucciso Non posso fare Voglio crearmi L'alibi E che ero con te Appena le parte Io vado Vai baby Bitch Boom boom Bitch Boom 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 Avevo il call down Non potevo farla prima Stavo aspettando te Totta Avevo il call down E io avevo il call down E io avevo il call down Quale è il problema Curo Dimmi La prossima volta Sì Io avevo capito Che era palese tu Perché eri dentro Electrical Ferma Una task Che si fa in 0,3 secondi Io stavo aspettando Che rimanessi solo Eh eh Però capisci Che uno lo capisce Al volo E allora Perché non mi hai votato Perché non ti ho votato E allora dovevi votarmi Raga ma nessuno di voi Ha più cagato La call perfetta Che aveva fatto Axel Quale No infatti Sono stata troppo felice Quella dei cavi È stato bellissimo Mi siete dimenticati Sì ma no Allora aspetta No aspetta La cosa dei cavi Non vuol dire niente Perché io Cioè le faccio le task Ma poi non mi ricordo Cioè se mi chiedi Che task ho fatto Io davvero non me le ricordo Quindi non mi ricordavo Nel senso Non le avevo fatti i cavi Ma anche se le avessi fatti Non me ne sarei ricordata Probabilmente Eh Se è un pesciolino Eh lo so No lo so C'è la domanda tra bocchetto A una persona Che magari non sa nemmeno Che sulla sinistra Ci stanno scritte Le liste delle task E di conseguenza Non legge Fai i cavi Ah non lo sapevo Vedi È per quello che l'ho fatto Eh ok Io ragazzi Sono solo felice Che ho vinto Se tu la fai a me Come domanda È attendibile Perché giocandoci Lo so Eh però Esatto Le domande sulle task Esatto Le fai se sai Io anche se me la fai Non so neanche risponderti Anche se le ho fatte Cioè se tu mi chiedi L'hai fatta la sto cazzo Di voglia Ti dico boh Cazzo che a me Mi fa paura Poverino dell'Arsi Io ci ho anche provato A difenderlo Perché era mio alibi Però Ciao Comunque è stato molto brutto Essere chiudere da un lato E dall'altro Vedere Totta E la Sara Stavano praticamente Decidendo Chi pugnarmi Io Polo Vuoi tu No Prendilo tu No Prendilo tu Adesso Allora Non devo farmi fottere I paraluci Eccolo lì Eccolo lì C'è della vendetta C'è della vendetta qui C'è della vendetta Qualcuno ha rosicato Qualcuno ha un attimo rosicato Io comunque volevo dire una cosa Che nel momento in cui Qualcuno mi ha ucciso Io avevo appena finito di dire la frase Dai questo round Mi fingo impostore Muoglio istantaneamente Ok quindi sono morta Totta E E curo E conic Ok possiamo skipare allora Secondo me si possiamo skipare Però un'informazione ce l'ho Anche io ce l'ho L'ho trovato Chi cazzo era? Bome sa Totta Sì Tra la porta di Lower Engine E E communication Ok Ho visto che passava un Bertra Ma Era ovviamente shiftato Anche io l'ho visto Perché l'altro Bertra l'avevo visto a destra No Bertra è a destra Mi hanno visto a destra infatti No 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 Allora Aspetta Stop 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 Un attimo Elenchiamo chi stava a destra Io stavo a destra Ho visto Rage Ho visto Bertra Bertra era in basso a destra L'ultima volta che l'ho visto Eh aspettate allora Allora è Bertra perché Io ero con Sara Che è scesa Ed è morta Eh no Il positivo No io non so Perché c'è lo shape shifter Ma non era bene C'è lo shape shifter La domanda è Aspetta I corpi erano assieme o no? Erano due o no? Non lo sa Non lo so Io ho appena visto il report Ho premuto Non credo ma può essere Eh ti perché Sono stranamente Nuovamente lo scienziato E sono appena morti Quindi E per quello che lo dico Però può essere che fossero assieme Sì Eh se erano assieme tutte e due Vuol dire che c'è stata una doppia In questo preciso istante Di conseguenza No Axel e Bertra sono Ma Bertra era C'è su Ma questa cosa è completamente In contrasto con tutto quello Che abbiamo detto Ma c'è la bocca a caso Bro io ho visto Bertra Ma Bertra era No no Allora Bertra era in basso A destra Da solo No era su No era in shield 100% 100% è reso Bertra Bertra l'ho visto Anche io a shield E poi ne ho visto un altro Che era appena andato via Ah Quindi non può essere Bertra E skipper No non è Bertra No non è Bertra Posizioni Ecco Cioè poi non credo che il killer Micchia prenda la forma di Bertra Se Bertra è anche il killer Sarebbe una follia Vabbè oddio È Bertra Triplo gioco Ma perché è io Vabbè power Qua merda Vabbè Madonna Allora Io non ho capito come funzionano i poteri Cioè tipo cos'è qua? Proteggi Cioè io posso proteggere una persona Io proteggo The Arts Io lo proteggo Perché poverino non ha giocato per niente The Arts Quindi lo proteggerò Sono l'angelo Gabriele io Sono l'angelo Esatto Proteggerò The Arts È per il problema che è Bertra No The Arts No Non è stare solo Vai via Ma aspetta Io le task le devo fare lo stesso? No vero? Vai le task Ma anche da Sai che non mi ricordo più niente? Le devo fare lo stesso? Sai che non mi ricordavo cazzo? C'era il rosa lì spiaccicato a terra Mentre io salivo verso sopra Mentre facevo le task Basta Interessantissimo il verso sopra Non sapendo dove cazzo sei È la cosa più No giusto Voi volete sapere i nomi delle stanze? Chiaro Chiaro Apri la mappa a destra Che stai proprio lì Stavo salendo da storage Admin verso Caffetteria Lo finiamo Valentina Dredge? Lo finiamo insieme L'ho visto proprio là Avevo appena finito di fare le task Quindi Io ho visto Axel Andare verso Caffetteria Da Mad Bay E invece Il buon Rages Che viene da storage Verso l'over engine Sono due Bravo Sei proprio il più furbo Della compagnia Sì sì infatti Rage era in elettrica Ero in elettrica Sono uscito Quindi erano due Rage Sono in telecamera Ok Chi è che ha avalciato per Rage? Eh? Cervo Io Ok Quindi Cervo Rage era in elettrica Axel usciva da Mad Bay Andava verso Caffetteria Allora Axel Con quali tempi Cervo comunque C'ha sta cosa Di forza così Ti stai mutato Cervo è cattivo Abbiamo Per tra Giga mutato No io sono qua E io sono passato Ho fatto il giro Elettrico Sono passato in storage In admin Ho guardato un po' I pallini E poi sono andato su In caffetteria Stavo andando a sinistra Stavano andando In formazione sui pallini Qualcosa che hai visto? Eh micchia 50 secondi fa C'erano Eravamo in tre Eravamo in tre In admin In quel momento C'era Delours Vero perché c'era anch'io Ci sto proteggendo L'Arte Lo proteggerò Terry Era Terry Ho visto C'è un problema Con l'immed Perché Ehi Non ci sono mai stato In realtà Mad Bay Quindi potrebbe essere Lo shapeshifter Di nuovo Tu non sei mai Quindi io L'Axel Che ho visto uscire Da Mad Bay Andare in caffetteria Ok Per forza Chi l'ha deciso Però Cervo ti giuro Che spero Che questo round Ti portino all'inferno È una minaccia Punto E' una minaccia No Votate Axel Mi è minacciato Lo schifiamo Lo schifiamo Ed Lars ha fatto Self report C'è anche Stas Eventualità Rimane il fatto Che siamo Di nuovo I sei Secondo te Questa giocata No Va bene Inaccusabile Inaccusabile C'è tipo Il buff Non l'ho ben accusato Olapo Non ho mangiato Qua roba C'è 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 Tota è morta Prima Tota ha vinto Una partita Da impostore Che è una roba Che non pensavo C'è pensavo De morir prima Qualcuno Serebbe di E quel qualcuno So io Io devo fare le task E proteggere Però c'è qualcuno Che è troppo lento A fare le task Oltre me Oltre me It's me Eh ma capito Mi torno Siamo nella stessa Storia del solito Siamo in sei E' finita E' sempre quella E' sempre quella E' sempre quella Allora Piccolo recapino Sempre se quello Che paura Porca puttana Che cazzo Ha messo il bussare Raga siete dei minchioni Io mi son girata subito Mi son cagato in mano Mi son girato Allora Madonna Se E' vero Quello che è stato detto Dello shapeshifter Colui che si è trasformato Si è trasformato In Bertra E Axel Se è vero Quindi andando per esclusione Rimaniamo Io Rage Cervo E là Dove prima In electricity Si tra virgolette Va Vaffanculo Si facciavano l'un con l'altro Cervo e Rage E Rage E Rage No bro guarda che impazzisco Se mi voti eh Io lo sto votando Io sto facendo un recap Sta facendo Ma non da che Minchia hai messo le mani Avantissimo È puntato Shapeshifter Ha effettivamente Preso la forma dei due Perché altrimenti Sennò siamo sempre in sei Ok Nado Facciamo questa esclusione Vai Se c'era lo shapeshifter E tu mi hai visto in basso a sinistra È impossibile che io sia lo shapeshifter Ma io infatti Sono d'accordo che Rage Non può essere Ti suoni molesti Sempre va ucciando tra voi due Allora è betta Così Cioè Vai votate me No io voto Axel Io l'unica cosa che mi sento dire Che c'è Aspettate infatti A me vengono di due cose Perché fino a mo Quelli che realistimamente Sono più susso Sono Lars Che Vabbè Lo sapete Ma perché Perché Aspetta Aspetta Fermo So chi è la soundboard Molestissimo Ciao Alla notte Allora 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 Mentre l'altro Che sta accusando Poi da inizio game Dalla prima Che è cervo Mo Però perché io ho gli occhi No Fermi Raga gli occhiali Vede con gli occhiali Ah gli occhiali Allora 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 Momento di bannare La soundboard Sono d'accordo Mi sentirei d'accusare Proprio Più dell'altro Aria Altrimenti Cervo Per questo dove mi accuserai Senza me Totta Che conduciamo le indagini Non vanno da nessuna parte Grazie Ah no Prego C'è tanto rispetto Di cervo No vabbè ragazzi Ma questa è una situazione Di cervo Ma che cosa è successo Oh cervo Non puoi urlare All'osso a tutti Per tre round E poi dire No 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 Andate a cagare No 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 Allora Io Eh vabbè Sentite Allora Io proteggo Il povero Dell'Arz Beppe Oh cervo Tutto bene Ciao Finalmente qualcuno Che si smuta Per far male con me Mi sa che Sara Non sa che si può smutare Posso? Sì si può smutare Sì si può smutare Ah ecco Si è smutata Era Axel quel porco Che fate finire Di fare le missioni Grazie che me le interrompete Tutte ogni santissima volta Thanks Guarda che chi te le interrompe Purtroppo Non si può sentire In questo momento Ah loro non ci sentono È vero Hai ragione Sono smutata Eh vabbè Per forza Easy Facile Io sono sconvolta Ma come avete fatto A non sgamare Bertre Così Si Bertre Era sgamabilissimo Perché? Cos'ho fatto? Ma come ti comporti? Sei proprio scritto impostore E in fronte Perché? Perché stai sempre zitto Tranne per fare delle battute A studente Non simpatiche Per girare l'attenzione Da qualche altra parte No Jules Vieni appena descritto La carriera di tu Di Bertre Lapo Torna a giocare A League of Legends Con le mani va Ci giochi anche tu E sei più scarso di me Che cazzo dici? Ecco Questa è grande È vero Triggerato Triggerato Io non ci faccio Una carriera però Cazzo vuoi? Vabbè Bertre Tuoi carriera è giocata a Mongas Ma non voglio difendere Lapo Però nel senso Ma sei pare Sì ma sarebbe una carriera onorevole Sei pancine Dici E infatti L'avevamo tutti? Let's go Sabota? Cosa vuol dire sabota? Ah così? Vorrei Vorrei Capire no Quello che ha botolato No Eccolo là Ok No 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 Aspetta aspetta Te la faccio facile L'ingegnere non si può spostare Dalle botole Perché non si è uscito Dopo 30 secondi? Sì che si può spostare Sì che si può spostare Tra le botole Dall'ingegnere Sì 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 Che cazzo pia la botola a fare Perché l'altra volta Non si poteva spostare Per questo No no Si può spostare No Ma qualcuno ha visto Chi ha botolato Perché io ho visto Una persona Ma non ho fatto in tempo A vedere il nick Non voglio fare nomi Perché sennò il killer Ammazza quella persona No Ah ok Ah ok Ok Allora non io bravo Makes sense Ha senso E quindi Vabbè Quindi come sta? Vabbè Votiamo l'impostore Votiamola Però Bertra Stava troppo zitta Sono di nuovo l'impostore Perché non parlo Madonna ragazzi Esatto Perché mi avete votato? What the fuck Ok lei credo sia safe L'ho visto a fare le task Mi sembravano legge Ha fegato le tasse Ha fegato le tasse Ha fegato le tasse Ha fegato i cavi O ha fatto Ha fegato Io mi ero già mutata Mi sembravano legge Ha fegato il teatro E poi Le tue Tift Nata Ha freno Grazie E poi Merda Raga Bertra Self report Ecco Allora io volevo fare un test Però me l'hai ucciso davanti Dlarz l'hai visto Ridi fianco a me L'hai visto Siete voi due Ma che storia Allora fermi tutti vi racconto la mia storia Non ce ne sbatte un cazzo della tua storia Bertra Puro di Hai questo problema che diventi troppo aggressiva Quando sei l'assassina Ma non è vero io divento aggressiva Se mi accusi a caso Se mi accusi a caso Possiamo avere un po' di silenzio in aula Stavo guardando i pallini C'erano tanti pallini in elettrico Vado in elettrico vedo Dlarz forse non l'ho visto in realtà Però se mi dice che c'era ci sarà stato Vedo uno che mi passa fuori Allora c'erano dei testimoni Raga lo avete visto Axel che corre Curo che stava scendendo Rissale di botto Tira una pizza Va bene Bertra Sì va benissimo Bella storia Bertra Bellissima Percato che c'erano dei testimoni Chi sono i testimoni Dlarz Dlarz ti ha visto di sicuro Non ho visto È passato anche qualcun altro Non ho visto chi era Ma ti hanno visto di sicuro Quindi Bella storia Minchia l'apo Per partito preso Se volete vi chiamo il 50-50 Se volete vi chiamo il 50-50 Buttate fuori prima Curo Poi me Non mi interessa Ok Mi sta bene Mi sta bene Io butterei prima fuori Bertra Sinceramente Totta non è che se prima sei morta Insieme a Curo Adesso devi essere tiltata Perché Se sei più altra Il posto No raga Mi sta bene Mi sta bene la sua tattica Mi sta bene la sua tattica Buttate fuori noi due Tanto uno Cioè uno dei due Per forza lo è Quindi Io ero in elettrica Ok allora sono O Curo e Totta O Curo e Dlars A vostra scenda Buttatemi pure fuori Dopo tenete d'occhio Dlars e Totta Avete finito il game Ve lo dico Io ho fatto la legge della nave Adesso sono diventati Sono diventati Dlars e Totta Va bene Perché Totta Ti sta dando troppa corda Però il primo Ok Va bene Va bene Va bene Quindi uno di loro due Dopo Ok Non mi devo fidare di perdere S'accusa Va bene Easy raga Easy È proprio È facile A me va benissimo Basta che dopo Buttate fuori lui Perché sennò Sono cacchi vostri Poi Ci ho provato Ci ho provato Purtroppo Lapo Non ho capito Per partito preso Perché Non si fida di me Per partito preso Non ho capito perché Belial Grazie mille per i 14 mesi Va bentornato E anche supernova Questo abbonamento è molto sus Grazie per i set Oh io ragazzi ho provato a difendermi Però lapo per partito preso Non ho capito perché Mi ha votato O della Delle sei persone vive Eh Prima che tu Aspetta aspetta Nado Prima che tu Bonzo Grazie per i 48 Grazie per i 4 anni Thank you Io? Grazie Non hai provato a fare Il Mad Bay? Allora Stavi solo guardando No allora Ho provato a mettere il dubbio Però Se buttano fuori Bertra Perché gli ho messo il dubbio È stato comunque worth it Boh raga Io ero in admin Basta Posso dire questo Comunque Prima di morire vi dico Tenete d'occhio Dall'Arz E o Totta No Totta è clean Totta sta facendo tutte le tasche Nell'ordine giusto Stavo solo facendo Stavo swipando la mia carta E non stavo rompendo i coglioni Nessuno Allora Nel Giga3 Sì sì Ma nel Giga3 Buttate fuori Lars Avete vinto il game Se non è Lars Buttate fuori Totta Il rom dopo È vinto di nuovo Perché il killer Di ricrezzo Sta facendo il memory Lo potete sgozzare Potete assolutamente Finire la partita Senza fare una task Ve lo dico Al Al dio di Amogus Posso chiedere di Basta farlo scienziato Mi sono rotto i coglioni Quattro game Ma guarda Se me lo passi a me Che mi sono un po' Ma guarda Mi sono rotto i coglioni Stimitali Vabbè quindi Come è andata la giornata Che mi raccontate La live Tutto a posto Tutto a posto Io non sono in live Ah Ma No Semplicemente Volevo stare Con la mutazione Ci godo Vedete che ha funzionato Due li ho portati con me Due li ho portati con me Ha funzionato Va benissimo Ciao morti Perché alla fine Gli ho messo il dubbio Ha funzionato Va bene Va bene Sono contenta Va bene così Non ho condannato Dell'Arts Fidati Mi sono rivolto a Simone Puro Ah scusa Stavo parlando con la chat Sorry Parliamo anche noi Con la chat Dai Quella call Non è stata così magica Devo dire Quale call magica Scusami Il tuo omicidio Davanti alle mie palle Degli occhi Ma in realtà Non l'ho fatta apposta Cioè Perché No Perché ti spiego C'era dell'Arts Lì di fianco Quindi ho pensato Bello Easy Double Però Non ho visto Cioè C'era evidentemente Un'altra persona Sì C'era qualcun altro Che non so Chi sia Eh Che pensavo Avrebbe fatto dell'Arts Però non è andata così Quindi Qualcuno ha riportato Istantaneamente Cioè C'era Ah tu Eri tu Ah eri tu E io l'avevo pensata E io l'avevo pensata Double E infatti Anch'io l'ho vista male Invece È stato più veloce Però Sei stato più rapido Totta che Totta che mi dà Contro Però Però ti ho Ma perché a me l'apo Che mi ha dato contro Istantaneamente Senza motivo Io sono credibile Io non faccio Io non Cioè No raga L'apo mi ha E non so come si fa Perché da pallini Ho visto Telecamere accese Ok Mi sono messo i pallini Cioè Seconda persona In telecamere Spente telecamere Ho detto Per forza morto No mi sa che io Con la bottola Aspetta Chi era in electricity L'Arts L'Arts E tu Cervo Giusto Sì Nella bottola Nella bottola Perfetto Chi era prima Quello che aveva preso La bottola Di cui non si voleva dire il nome Io Sempre certo Ok Raga io non gioco da un po' Ma la bottola Adesso la possono fare Anche Cioè chi non è impostore Giusto Solo Uno Solo l'ingegnere Ah ok No perché ho visto gente Che l'ha usato Ho detto vabbè Quante persone Vabbè uno Tipo Ok provo con le luci Allora Uno in questa partita L'ha usato Non mi ricordo quale Qualesemente Bertra che è morto Allora O Cervo Finge di essere L'ingegnere Quando in realtà L'impostore Pia le botole O se no Stava facendo la giocata 200 IQ Del Cerco di vedere Se muore qualcuno E lo spio dalle botole Era quella Io ero in admin Con Rage Quindi Rage non è Eh All'appello Totta mi fido Mancano Cervo E Dlarz All'appello Allora però prima Bertra aveva accusato Dlarz Bertra aveva accusato Dlarz Però sinceramente Allora Anato Sincero Ok Ci sono Siamo in 5 Ok Io sospetto che un killer Sia già volato via Eh Probabile se non sarebbe stata una doppia Sarebbe finito il game Esatto Esattamente Quindi ti posso dire Un bello skip E andiamo di task Uno skipino tattico Eh si al massimo Arriviamo in 4 Poi 3 Comunque abbiamo Non lo fai per il content Degli amichetti Che magari Vai provo a C'aveva ragione No Non vorrei rischiarla così No scusa Io ho schippato Ah io Voto per Bertra Allora schippo io Dlarz Autovotati Sì sì Subito Non l'ha fatto Non l'ha fatto Non l'ha fatto Non l'ha fatto All'impostore Non lo farei mai Bertra Ho creduto in te Ciao poca Vabbè C'è nel senso Succede pure migliore Madonna La gente non mi ascolta Non avevo pensato Che sia la colpa Della tua voce Bertra La mia voce è bellissima Intanto Da una 10 Quanto gli daresti? 12 Sì Comunque Siete tutti super esperti Qua Non sto giocare così bene Passato troppo tempo Questi si aprono Genshin Li prende schiaffi in bocca Lapo Mi spieghi perché sei partito per partito preso contro di me a caso? Boh Mi fidavo di Bertra Ma che vuol dire? Bravo Lapo Solidarietà ma Ma non ha senso Cioè io sono stata votata con zero prove La prova è che No era No E ha capito Bertra Ma tu sei affidabile 50-50 E ha capito 50-50 E sono venita sotto io Cioè non ho capito perché E 50-50 Di solito si parte da chi lo accusa Ci sta Easy Easy Povero Dlarz Easy We lost boys Dovresti proprio fidarsi di me Sì sì no lo sapevo che era male Però ho capito Nel dubbio almeno era vittoria sicura Ho provato a darti il video Bertra Comunque Bertra ti ho portato giù con me Quindi A worth it Ma non è vero sono io che mi sono sacrificato Sì sì Certo Ma oddio non lo so in realtà Mi avete votato tutti a caso Ma raga è 50-50 Era assolutamente a caso Perché mi ha visto solo Bertra Quindi era totalmente a caso raga Infatti io ho chiamato il 50-50 Per quello lo so Capito che cos'è il 50-50 È che io ti Io mi sacrifico Io mi sacrifico per tirarti giù Perché sono sicuro Quindi Ma scusami ma non è stata una gran tattica Perché così io ne ho portati giù due con me Eh Sì Ma togliere uno dei due impostori su due È tanto È il 50% degli impostori Cioè fai il calcolo Sara Su nove giocatori Dove due sono impostori Rimangono sette crewmate Per due crewmate che perdi Quindi Su sette Vai a cinque Ti togli il 50-50 Sì ma non ha senso chiamare il 50-50 Raga Cioè che senso ha scusate Ma è molto più importante buttare via un impostore Io no No Io sinceramente se so che non sono io Non chiamerei mai il 50-50 Guarda che È l'atto ultimo Perché tu sai Al 100-100 è quello l'impostore Per farti credere Fai l'alto ultimo Ma non ha senso Cioè uno può Può assolutamente Cioè Non ha senso secondo me Chiamare il 50-50 Boh Poi non so Cioè io potrei benissimo pensare Che è una tattica Cosa è una tattica? Io ora procederò A chiamare il 50-50 Non lo potrebbe mai fare Un altro assoluto crewmate come me Come ne possono Non potrebbero mai fare Il 50-50 Il caso peggiore È se uno è ubriaco E non ha gli occhiali Ed è un crewmate Che accusa un altro crewmate Eh ma può succedere No di base no Perché non ti sbilanci così tanto Beh con gli occhiali si vede no? Sì appunto quindi Se non ha gli occhiali Lo può fare Se non hai gli occhiali Non ti fidi a prescindere Se non hai gli occhiali Non vedi infatti Se io lo starci Di nuovo Mi buca fuori da nare Startiamo Startiamo Vai vai Sono ancora crewmate Miri cookie Grazie per il prime Ciao Miri cookie Oh io sta tattica Del 50-50 Eh ma anche io Non sto capendo Perché boh È tanto che io non gioco eh È parecchio che non gioco A sto gioco Però io sta roba Del 50-50 Non la farei mai Cioè neanche se fossi sicura Direi buttami fuori E poi butti fuori L'impostore Eh sono cambiate tante cose Sì È sensata in realtà Ma oddio No perché così Cioè io me ne faccio Me ne sono fatti fuori due Quando in realtà Io ne avrei fatto uno solo Eh l'altro poi Al primo round Sì Ah beh o te dici Al primo round Può aver senso Maybe Può darsi Sì forse al primo round Effettivamente ha senso Boh non lo so A me sembra comunque Una tattica estremamente rischiosa Cioè io sinceramente Non la farei mai Neanche da 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 mate Sì sì no ci sta A senso è una taf Che pare che non mi fa Un'altra tasca Hello Allora Hello Allora Chi era navigation? Io Allora aspetta Ho trovato rage Navigation dove è? A destra Ho trovato rage in shield io Scusate qual è la navigation? Sala comandi? Sala comandi? Sì quella tutta a destra Centrale a destra Cazzo io l'ho visto Terry Crews Però non ho visto nessun altro Perché era buio Ah no aspetta ho visto Axel C'è mia domanda è un'altra però Basta mangiare Usa via Qual è la tua domanda Axel? Chi è? Che era navigation C'erano tre persone Quattro con me Io ero andata via da poco Da navigation E ti ho visto Ok Io non ero Io ho fatto le luci in electricity Io ero E ho trovato rage in shield Appena sono sceso Io ero dall'altra parte Io ero in elettrico No Lì che erano navigation Mi sento di escluderli Da possibili accuse No io no Perché Terry Crews L'ho visto Era rosa E l'ho visto chiaramente E poi Che cazzo è rosa Sara Non lo so che colore è rosa È Terry Crews Terry Crews Terry Crews Dico ho visto un flash rosa E poi me ne sono andata E tu eri sopra Quindi nel senso Sei l'ultima persona Che è passata di lì Axel Ma non si fanno queste cose Porca troia Ma io non ho sparato a nessuno Sì ma te pare che fai queste cose No ti giuro Io non ho giusto parato a nessuno Vabbè mutata totta Axel E comunque Allora Secondo questa planimetria Mi sento di escludere Sara Cos'è una tattica Di percentuale Cioè di statistica Non può essere ancora impostore Vabbè sì In realtà potrei In realtà potrei Tranquillamente Questo non vuol dire Scienziato magari No raga Raga fermi Faccio la call Sono totta E Sara di nuovo No No Sara no Smetti di fare ste call del cazzo Ti prego E Axel Cioè La statistica è una delle mie Allora io dico solo Che ho visto un flash rosa Che era l'apo E ho visto Axel a nord Che è sicuramente l'ultima persona Che è passata di lì È l'unica cosa che io ho visto Io penso che possa essere stato Axel Visto che il reporter è il mio Io mi sento escludere Sara Cervo Bertra Priori Per me tutti gli altri Sono indagabili Ok ci sta mi piace Senza di me le luci erano spende Need mutato Ok A post Ciao Desa Per me è Axel Dicevo ciao Desa Grazie per i quattro Adesso fai il 33% No per me è Axel Però non Faccio il 50 e 50 Per me è una cazzata Sta cosa del 50 e 50 Io vado e mi faccio le mie task Non favo nessuno Le mie taschine Tutti hanno paura di me E fanno bene Perché se fossi io l'impostore Li ammazzerei tutti Attenzione ad Axel Pensare anche a Sburtra Non mi piace Giovani fuori classe Cos'era questo assembramento? Che mi son perso? Fermi tutti Fermi tutti Facciamo un raccappino Lavoro Madonna Che molesto Allora Cervino Ceri tu vero? Dimmi Grazie l'appo della flash Ceri tu Axel Infatti Fermo lì come un pero Davanti a un canale Non ho capito Dove? Dove? C'ero io prima In elettrico In alto a destra Perché? In elettrico In alto a destra Axel è safe Axel è safe In elettrico In alto a destra Nella stanza elettrico In alto a destra Ok ok Perfetto scusa Vi spiego Vi spiego che è successo Raccontami tutto Ero elettrico con totani In base ok Totta è uscita Tranquillamente È andata verso sinistra Totta è andata verso sinistra? Ma prima che arrivassimo noi? Ascoltami Sì Ascoltami però Qual è il problema? È un altro Che Quando sono sceso E che stavo per uscire È arrivata una totta da destra Fermi sei tu Fermi 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 L'Axel ha detto Una puttanata stratosferica Perché L'unica totta che ho vista Andava da elettrico A storage Quindi questa è una castroneria Proprio Axel Con le mani nel sacco Axel l'ha detto A scendere Ecco Quindi È paradossi in questa roba Lo totta non è mai passata da lì È un fantasma Eh no Se è scesa da telecamere Ed è passata di là È ovvio che da elettricity Poi va in No io sono andata a sinistra Verso l'UR Totta era in medbay Io per questa volta Mi sento di difendere Mi sento di credere a Bertra Perché l'ho visto Era con me Quindi Allora io vi dico Axel palese L'Axel anche secondo me Però è un po' metagame Quindi non lo dico Non dico la diversa cosa di metagame Vabbè comunque Il mio punto canera Che sicuramente Totta non è Questo era il presupposto numero uno Due Non è che sono psicopatico Che stavo lì Pisciando sul cadavere Ma che cazzo di Di mossa sarebbe Secondo me un po' sì Però Più che mi interessava la call Che abbiamo visto In 2-3 Totta Sotto elettricite Uno ha detto Totta madbay Eh c'è capito Ma infatti No io madbay non ci sono mai stata raga Io credo che una totta abbia semplicemente Non totta Ma un'altra abbia morfato in totta Abbia ucciso e si è andato mad A me sembra una puttanata E in più Ti dirò di sì Io vi faccio un'altra call Di metagame E non la farò dopo Ciao Ok Potrebbe essere Effettivamente Metamorfosi E che io Ste tattiche nuove Non le conosco Perché quando giocavo Un anno e mezzo fa Non c'erano Quindi io tutte ste robe Non le so Allora Qui ci sarà qualcosa Sì Io comunque Dovrei aver quasi finito le tasche Non so quante ne ho ancora Qui non c'è Qui non c'è Sì c'è Uno due tre Quattro cinque Cos'è c'è E otto nove Dieci Noo non ce l'ho Noo non ce l'ho Noo non ce l'ho Noo non ce l'ho L'hai intata L'hai intata L'hai intata Axel Sì l'hai veramente intata Concordo L'hai intata apposta Ma sei un fallito No no Allora mi senti dire Che l'ho messo Veramente alle strette Ma non esiste Lui stava uscendo Da electricity Io l'ho proprio richiamato E io ho detto No sali un attimo Io pensavo Cioè ma non ho capito C'erano tre impostori In pratica Sì sì È come la partita Quella con Martina Non vale un cazzo Va bene Va bene Ma che non vale un cazzo No 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 Madonna Bertra Che più so malino Che sei Assolutamente sì Io raga ora Non so chi sarà C'erano tre impostori Sto giro Ma stai zitta A me pensavo Devi giocare Comunque bravo Bertra Venditela sempre Con le minoranze Solo perché so dal tonico Eh sei un cretino Però senti Axel Eri veramente tanto Suze Cioè ci abbiamo creduto tutti Eh ho notato Che l'ha fatta apposta Mamma mia Sì Ma le prego Le prego No Chau Chau Può avere una serata comunque Veramente Raga potevate uccidere Rage Che è rimasto fermo a pisciare Dove era il cadavere russi? Era in electricity Dove c'erano Dlarz e Rage se non sbaglio C'era anch'io in electricity Ok scusami tu hai fatto luci giusto? Sì Perfetto Dove era il cadavere? Electricity Alla destra del download Cioè scusami alla destra del robo Dei cavi Io non ci sono neanche arrivata lì sinceramente Qualcuno era lì sopra a qualche parte? Io ero raga da tutta altra parte Io ero lì ma ero prima Cioè io non ci sono mai arrivata sopra Io vi do tutte le informazioni che ho Totta è passata facendo tutto il giro da Penso da sinistra Io l'ho vista arrivare sopra caffetteria Arrivando dal lato sinistro Confermo Io sono passata da Io sono passata da Lowe Rapper Perfetto Poi io sono sceso giù con tutte le luci spente Entro in electricity Si accendono le luci Trovo Kuro e Dlarz sul pannello Kuro scende giù Dlarz sale con me E c'è il cadavere Del Del bollapo Disteso per terra Esatto Del suo lago di sangue Dlarz conferma Dlarz conferma Io mi fido Io confermo che ho visto Dlarz E non ho visto gli altri però No no io mi sono trovato il cadavere davanti Che tipo avevo levato un attimo la mappa Perché stavo correndo con la mappa aperta Perché non mi ricordo dove sono le task Levo la mappa E mi trovo io un altro E il cadavere davanti E poi L'altro ero io E l'ultima news Non sono lo scienziato Quindi Chi è lo scienziato E ha visto i vitali Parli Io E' morto non da molto In mezzo secondo No E' morto non è caduto Cioè io quando l'ho visto Non stava cadendo a terra Quindi era già caduto O doveva ancora cadere No no Era morto da poco Ah Da molto molto poco Questo posso dire Sì 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 Quindi chi è che manca l'appello Io ero pisciare Qual è il vostro animale preferito? L'ape L'inguino L'ape Quindi raga Si schifre Quelli che hanno meno Meno cose Sono Axel Scusate ciccio Ma hai detto Rifare attacco Con Canwar Scusa E anche perché Sennò ti ha detto Dabba la famiglia Quindi E ne è bello Ok Ah no Perché si riparte da qui E' bello Ok E' bello E' bello E' bello I bello E' bello Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi abbiamo risolto... Chi altro era che stava risolvendo communication? Quindi chi è che manca a questa conta? Non lo so. Io te c'ero, noi eravamo lì. Io ero in telecamera. Io tot eravamo telecamera. Cura? No, io ero in mensa. A pensione? Io ero morto. Stavi facendo il test del qui? No, stavo andando a destra. Posso passare dalla mensa? Voi che avete arrivato in telecamera e potete corroborare questa tesi o no? Io l'ho aperta un secondo, però sì, mi è sembrato fosse verso caffetteria, quindi mi sembra corretta. Cazzata. Io non ho visto nulla di particolare. No, cazzata, raga, ero in mensa? No, no, mi piaceva dirlo. Ma va a cagare! Ma che cazzo? Schippo, schippo. Vabbè, schippiamo. Finché c'è solo una kill. Sì, sì, vabbè, se l'altro è zoppo, va bene così. No, chi è che qualcuno ha votato? Chi ha votato, Flora? Quale se mente se stesso, perché si sente una colpa. Ma io, raga, attacco sempre se mi accusano a caso. Cioè, a prescindere. Cioè, se mi accusano a caso, io attacco. Sì, comunque Axel non sta facendo il suo lavoro. Cioè, le ho fatte tutte io finora. Eravate in quattro chiusi in caffetteria, tu sei arrivato addosso. No, regà, è Axel. Allora, è Axel. E ora vi illustro il perché. Non sta tirando fuori il metagame. No, non sta tirando fuori il metagame. Sta tirando fuori che o la sta intando pesantemente, oppure io è dall'inizio del game che mi sono impegnata da morire per far sembrare ad Axel che io fossi l'impostore e non mi ha mai snicciato neanche una volta. Cioè, io sono rimasta dieci minuti a vedere le telecamere quando le comms erano offline, non ha detto nulla. Gli ho botolato davanti e non ha detto nulla. No, aspetta, ma che tattica è questa? E ora mi stavo chiedendo, minchia, ma perché cazzo non mi ha snicciato fino ad ora? E l'unica cosa valida che può essere, non mi sento che la sta intando dopo averla intata anche prima, è che è il cazzo di impostore. Ma che cazzo di affermazione? Adesso io ho una call più importante. Flexi mi ha chiesto se può giocare. Può giocare? Ciao Flexi. Ciao Flexi. Siamo pieni. Puoi fare il bando sul Discord degli amichetti. Comunque, sicuramente, Carlotta, mi sento un po' feso da sta roba. Axel, sei tu lo zoppo? No. Allora posso. Sansorina, grazie per il 67. Ok, mi ha autoluto. Lars, secondo te è Axel? Mi sembra esagerato, però non capisco questa mancanza di frutta. No, allora, non è questa mancanza di frutta. Fermi, 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 fermi. Secondo te? Secondo me sì, dai. Perché prima era troppo sus, capito? Io ho detto no, ok, mi fido. E lui voleva spiegare lo stesso. No, dai, ragazzi, no, dai, ragazzi, no, dai, ragazzi, no, dai, ragazzi, no, no, regà, non è Axel. Ritiro tutto. No, 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 raga. No, raga, votate me, votate me, votate me. Raga, Lars ha parlato. No, raga, votate me, davvero. Cioè, mi sta una screzzia drastico in chat. Non hai capito, zia? Cioè, da domani non c'ho più un lavoro. Non c'è un comitante che mi dipenda, zia. Davvero. Tutto bene? Chi è che sta crepando? Io, 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 infatti uccidetemi, ragazzi, perché non merito di giocare. Oh, io schifo, però... Io voto a me stessa. Mi sono rimasto sicuramente male. Mi sono fatto che dico. Da quando tolta un lavoro. Basta con sto cazzo di bussare, mi cago in mano. Perché ti cago in mano? Chi vuoi che te bussa a quest'ora? Non lo so. Io non sto capendo niente, comunque. Non sono abituata a giocare così, devo... Non le conosco queste nuove tattiche che stanno usando. Quindi mi trovo abbastanza spiazzata. Perché non so... Non so. Tra l'altro io, boss, ho il cooldown da 600 ore. E io continuo ad avere il cooldown. Ah no, c'è il codice. Come errore. Minchia, non riesco più a chiuderlo. Per il modulo. E io continuo ad un meno di tempo. C'è il modulo della animazione. Non riesco più a chiuderlo. Ma ritagà, non riesco più a chiuderlo. Non riesco più a chiuderlo. Si ma raga io non faccio in tempo a far niente In 3x2 segnalano qualcosa E non faccio in tempo Adesso questo è curioso Oh tanto sinceramente qualsiasi cosa io dirò Ho già stato marchiato a morte da Da totta quindi tanto vale che mi buttare fuori E basta perché tanto le accuse Andranno comunque su di me Come prima Nonostante lei mi abbia accusato Abbia fatto la stronza perché io rimango fedele ai miei amici E nel momento in cui Che lenta raga Che lenta Che stoppano sempre E siamo riscesi e ho tolto un cadavere Posso dire io per rispetto per Axel Adesso non voterei nessuno e skipperei Dice In giustamente incarcerato Ho ucciso io L'amicizia hai ucciso Non è impossibile È una tattica Ho ucciso io È impossibile Axel l'ho ucciso io Non ci credo Axel l'ho ucciso io Votami Ma senti in colpo perché mi ha accusato prima E mo c'ha Sì ragazzi mi sto sentendo una merda assoluta Cioè nel senso Mi sto di aver fatto la giocata della vita Porca troia Invece no Sono una merda E vabbè votatemi Basta mi arrendo Mi metto la cognia pubblica Uccidetemi Ma non ci sono le modi Non votate Non c'è il jester Che è il jester Che è il jester Bro ho il cooldown Non posso ammazzare la ruota Guarda che li ho ammazzati io Gli altri eh Vabbè Lapo Perché a me? A caso? Io voto l'unica persona Che secondo me È veramente l'impostore Scusate Sono timpato Sono morto un po' troppe volte Vabbè Lapo Quella era Mentre la data del Lord Ti sei votata da sola? No ho votato te Bertra Grande Votate me gentilmente Grazie Ci voto Bertra Perché Grazie 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 Ma raga Ma sul serio? Io l'avevo votato per niente Ma guys Per il me l'avevo fatto Ma io l'ho fatto bene Fantastico Perfetto Ho easy Guarda io Cioè Continuo a avere Ho sempre il cooldown Io che cazzo devo fare Cioè io ho perennemente il cooldown Ma perennemente Io che minchia devo fare La voterò però Cosa devo fare guys? E ogni 3x2 mi trovo questo cooldown Aspetta Sì ma c'è Dai Dai Cioè Dai Porca troia Guys Così è così costantemente Com'è caricare il cooldown Sulle telecamere? No chiedo Accuro A me? Eh sì Com'è caricare il cooldown Sulle telecamere Non accendendole Ma in che senso? 5-10 secondi Così ferma Ma veramente Sono andata a guardare Le telecamere? Eh sono andata a guardare Le telecamere Quindi Tu hai la funzione Di tenere le telecamere Spente mentre le guardi Ma cosa vuol dire? No gravissimo Le telecamere Ha un pallino rosso sopra Se non le guardi Non si accende Eh ma mi sono avvicinata Le volevo pigiare Ho guardato E sono uscita Cioè non so Stavo guardando dall'esterno Ha detto che stavo guardando Ciò che le telecamere Rage Legittimo Cioè lo fammo tutti La prima la togliamo La prima la togliamo Non mi sorprenderebbe Cioè non ho capito Cosa ho sbagliato Vabbè sì ma un secondo Cioè come fai a entrare E poi tornare fuori a vederla Non mi sento l'accusarla Ecco Vabbè ok Ma queste due ragioni No 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 tranquillo Tranquillo Li perdiamo Non ho capito No non ti preoccupare Devo tanti Mi devo votare Te lo spiego Ok Se si è votato alvelo da sola Ragazzi mi piange il culo Il cuore te lo giuro Non ho capito Ti prego no Non l'ha fatto veramente L'ha fatto veramente No ragazzi ma poverina Così no Si è votato da sola Cazzo che mi son votata da sola Mi hanno votato sti bastardi Col cazzo che mi votava da sola Ma Mutatevi Raga ma sta roba delle telecamere Non l'ho capita Io non ho Cioè tipo non ho ammazzato nessuno Beh Mi sa che è l'impostore No Non Cioè io non l'ho fatta Sta roba delle telecamere Sostanzialmente Raga ma io non sono così esperta Cioè Ah dai fattigli alla lui No Cioè seriamente Non ho usato sta tattica Che lui mi ha detto Non l'ho usata Cioè io Ho aspettato Ho aspettato tutto il tempo È stato cervo in elettrica Totta Cosa stavi facendo Cioè io ho aspettato tutto il tempo Che si ricaricasse Raga io Sono tre volte che cerco di fare una kill Ma Continuavo ad avere Call down Call down Call down Call down Non riuscivo a fare kill Cioè avevo perennemente il call down Sono andata lì per guardare le telecamere Le volevo aprire Ma non ho Cioè non ho neanche fatto in tempo Perché hanno chiamato Cioè io non ci sto capendo un cazzo Giuro Non ci sto capendo più niente In sto gioco Me lo ricordavo più semplice Ma non è possibile Quando interagisci con botte Le telecamere e pallini Blocchi il caricamento della kill Sì ma io non l'ho fatta sta roba Cioè io ero semplicemente lì Che cazzeggiavo Stavo aspettando Non ho fatto sta tattica incredibile Quindi non ho capito No comunque non mi sono votata da sola Non è che sono cretina Io ho votato Avrei potuto votare un altro cazzo Ho sbagliato a non votare Magino che dirà di sì Però non ho proprio capito Vabbè La partita di prima Almeno l'ho vinta Però non ci giuro Io non ci sto capendo niente Con tutte ste tattiche Semplicemente non lo sapevi Loro pensavano Stassi aspettando per il cooldown Che è la verità No io stavo aspettando Il cooldown della kill Ma non stavo aspettando In telecamere Cioè io ero lì Dovrei bloccare il caricamento Sono riuscito a uccidere Uno all'inizio E poi basta Perché poi ero sempre Ferenemente in cooldown Però comunque la roba Delle telecamere Io non l'ho capita Io quella cosa Delle telecamere Non l'ho fatta Ti spiego facilmente Ok Ti metti sulle telecamere Ok Se tu le prendi in mano Ok Che è la telecamere proprio Il cooldown si stoppa Quindi non puoi caricare Il cooldown per uccidere Ma perché dovrei fare Una cosa simile Scusami Appunto Infatti se stavi ferma Davanti alle telecamere Non le hai accese Quindi stavi caricando Il cooldown Ma che c'entra Ma esatto Non ci ho proprio fatto caso Cioè io ero nella stanza così In un angolo della stanza Fermo Vabbè ma lo fai anche Da Da crewmate Non crei Cioè in senso Perché no Normalmente faccio le task Da crewmate Comunque Mi sento di dire una cosa a Totta Devo fare una critica Io mi sento di dire una cosa a te Scusa Calcola Non ti nego Non ti nego Che ormai ho detto Vabbè Lascio che Sara ammazzi tutti E poi è successo un disastro Eh sì Perché io ero sempre in cooldown Io non ho ammazzato nessuno Solo una persona inizia Poi basta in realtà Quindi ero davvero innocente Allora fine Non ammazzati piano piano È ok Però dico Sai che avrei fatto? Avrei ucciso uno davanti a Totta Avrei segnalato dicendo Totta non sono stato io Giuro Mi sa che era Cioè mi aveva detto una stronzata Per farmi buttare fuori E appena volavo fuori Avrei detto Brava Totta Vedi come valuti le tue amicizie Ma Totta aveva fatto infatti La mossa 2000 qui Cioè proprio quando Totta Ha detto quella roba Ho detto Minchia GG Grande Totta ha avuto ragione Totta aveva super ragione Io avrei ammazzato qualcuno Mi sarei fatto buttare fuori Io non ti ho dissata Perché ero talmente impressionata Che io non ho detto niente Perché era la mossa Corretta Avrei valutato l'infame Meglio di un tuo amico Ciao Zinedine Grazie mille per la sub Volevo dirlo E pensa che avrei ucciso qualcuno E mi sarei fatto buttare fuori Comunque per darti ragione Davvero amico Totta totta Prendi una bottiglia Oh comunque Sono Oh due volte impostore Ho vinto due volte Io non so se Anzi no tre volte impostore Però ho vinto solo due Questa non ce la meritavamo Sì Sara No ma questa non ce la meritavamo Si sono uccisi da soli Praticamente Eh però raga Voi usate delle tattiche Che io non conosco Cioè io tutte ste robe Che voi dite Io non so di che cazzo parlate Il 90% delle volte È la base di Among Us Ma io ci ho giocato Per un anno e mezzo Però fino all'anno scorso Eh fino all'anno scorso Si sapevamo sempre Un cazzo Boh non c'erano ste robe Che tu dici Io ho resale il mio cuolo Negli amichetti E faccio entrare Axel Che evidentemente È l'unico vero amico Nooo Povero Grazie per il Prime Grazie bello Dai va bene Dai dai Ultima Raga se siete in posteri Uccietemi in fretta Che mi sto pisciando addosso Grazie Se muore l'altro ragazzi Spacca la scrivania Quindi occhio Ah ma perché c'è anche l'apo 4 Occhio Sono più basic Per sto gioco Non le conosco tutte Se super advanced Tactics No no Vabbè le tattiche Si sono sempre fatte Però queste qui Non le conosco C'è queste Ok 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 Dai raga ma lo state facendo apposta Però poverino Dai raga poverino Io ho finito Cioè grazie Arrivederci Buona serata Lapo Lapo Andà smurfa su lol Magari ti diverti un pochino Oh mio dio Ti sta dicendo che se giochi normale Non sai giocare Vabbè voragio Vero 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 L'hai detto tu eh Esatto Io stavo solo chillando Assieme Mi senti in colpa Quello che ti sta accadendo stasera Io no Perché più di una volta Ha detto che Che non si fidava di me Quindi se lo merita Ti senti in colpa Di aver ucciso Lapo No perché non l'avrei fatto io Io sta roba non la faccio Se qualcuno muore sempre Non continua a tartassare Beh Vista l'ultima Vista l'ultima partita Probabilmente l'infame Sono io raga Si è molto proprio Dov'è che sono morti? In Caffetteria Cervo E Vabbè Ho visto Due persone Cervo è morto da un po' Invece Lapo è appena morto Quindi Lapo è appena morto No dai poverino però Lapo che è morto ancora Subito Questa partita La possiamo rifare? Dai Bertra Continua Ci ho già votato Mi voto anch'io Ragazzi Sì Schittiamo al volo Dai Sì Schittiamo Il sasso schitto Si chiama Sburtra Esatto Si può dire che Si può dire che questa partita sia stata l'apoteosi Che meschinità Cosa? Anche l'altra non va dalla chat Tutte e due Raga ma Vado a pisciare Ma così? Senza Vabbè Ok Ma era solo per farlo pisciare Per la battuta Vabbè Ci sta Comunque loro sono troppo avanti per me Io non sono così cerebrale Cioè Non riesco a fare tutte ste tattiche incredibili Questa totta è sus Gna Come si aprono le porte? Oh ma tutte le porte chiuse Chiuso 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 Giochino Allora Where? Allora Io e il blu siamo safe Perché l'abbiamo visto praticamente insieme Il Ok Il cadavere sta Sì Il cadavere sta alla sinistra di storage Di magazzino come si chiama in italiano La questione è Ho visto Totta Che veniva da storage E c'era E boni 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 Allora Io stavo in elettrica Con Sara Quando hanno chiuso le porte Poi hanno aperto le porte E io mi sono tirata verso destra E Sara è rimasta lì E il cadavere sta Tra storage E electrical E quando sono passata io non c'era il cadavere Perfetto Io sono passata dietro Totta Io confermo che l'ho vista passare verso destra Io non sto accusando nessuno Sto dando le posizioni Axel veniva da sinistra Quindi da zona storage Io l'ho vista andare verso destra Però Era un po' sus Dietro di lei Vabbè Quei Desinca del server Cioè realisticamente Sono usato Desinca del server Scusami Sarà L'hai visto Axel? No io Axel non l'ho visto Eeeh Io ho visto solo Totta No io No 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 Io sono uscita con Totta Non sono uscita con Axel No no nel senso Se sei uscita con Totta In contemporanea da electricity Sei uscita un po' dopo Sì No sono uscita in contemporanea Con Totta da electricity E Totta è andata a destra E io sono andata a sinistra E poi non ho più visto Però è passato Tanto tempo Quale è una falsa informazione? La mia? Quando io sono uscita Te sei rientrata in elettrica No non sono rientrata Sono andata a sinistra A fare le task Non ti ho visto andare a sinistra Totta sei sus Che? Sei sus Non ti sospettavo Ma adesso si Totta Io mi ho visto rientrare Ma magari ci sei andata E non ti ho visto No Totta Non sono rientrata Sei sus Va bene 18 secondi Eravamo chiuse dentro insieme Quando è che mi hai visto rientrare Non sono chiuse dentro insieme Quando io sono uscita Sono andata a destra Sei un po' rientrata Però faccio No Totta Totta È Totta Non penso Io non lo so È Totta Eravamo chiuse dentro insieme Sì E te l'avrei potuto uccidere Non è vero No È lei È lei È lei È Totta Pov Cospino Grazie per i cinque mesi Grazie anche a Hoopers Per il regalo a Cervo Grazie Hoopy Aspetta no Qui non c'è niente È Totta È Totta È Totta È Totta Ma qua è luce? Cos'è? Sì Come funziona? Security Secondo me non aveva la Kim Siamo sei? No Cinque Volevo chiedere una cosa importante Voi sapete la posizione del cadavere di là? Vabbè No La posso cercare Aspetta La posso cercare? La posso Grazie La posta in gioco è pesata Dillo che lo fai L'hai fatto No vaffanculo Scusate Sì ciao Allora A me Axel Puzzicchia Se posso dir la mia Non posso dire che non possa darti Diciamo contro Perché nella tua posizione anche io mi sentirei di puzzare Scusate che è successo Scusate che è successo Scusate cosa sono queste posizioni che mi faccio Ma è sempre la prima Ma è sempre la prima Ho fatto Ossigeno Vado per premere il pulsante E c'è Axel che viene verso di me Insieme a qualcun altro Che mi sembrava Boh Totta Sono io Ok E logicamente vado verso il bottone E Axel mi segue verso il bottone Vabbè ma che c'entra Axel è stato pure con me prima Abbiamo risolto insieme ossigeno Che tolta Cioè Non ha giocato anche intelligente Se va ammazzare quello che fosse Di giuro andarsene no Comunque raga dobbiamo per forza buttare fuori qualcuno adesso Io l'unica Io la cosa che mi sento l'accusa sinceramente O era Sara per quella cosa di prima Non sono io Che è l'unico che non parla Grazie Sara mi hai convinto No L'Arz era prima Eh prego Si era già Dotto l'alibi Per me è totta E magari l'ha ammazzato Ma dove sono totta e Axel Per me Axel non lo so Non lo sospetti Però tu totta si No no Totta Perché ha detto una cosa su di me Prima che non era vera Quindi per me è totta Allora D'Arz tu chi sospetti? Ma Boh Non lo so Ciao Non ti dico aiuto Allora Dimmi Dimmi No Perché D'Arz No D'Arz non l'ho visto far niente Quando Quando io ho incontrato D'Arz Era Shield Da Shield Insieme Abbiamo incrociato Te e totta Che venivate Da storage E abbiamo trovato il cadavere Quindi Visto che non c'è nessuna botola Che collega Shield A lower engine Non può Non può Oh raga Io ti giuro Hai detto Eh ma hai detto una roba Che non era vera Prima Quindi per me sei tu Eh ma io qui l'ho visto Sei tu Sei tu Sei tu Considera che totta Allora Da impostore Avrebbe risolto L'emergenza Completamente folle Axel la sta intanto Di nuovo No 50 euro E chi è che ha Schippato Io Perché avete Schippato Non dovete Schippare Raga Siamo morti Io non sto da sola Siamo morti Siamo morti È perso Eh purtroppo sì Allora Merda Volevo premere il bottone Attenzione Totta Allora non eri tu davvero Perché hai detto quella cosa Ma non è vero Io ho pensato Cazzo ha mentito E lei Beh lei Era il coassassino di Axel Comunque Grande Axel Mannaggia Odlarz poteva comunque Portarsela a casa Facendo il voto magico Sì praticamente Sì Comunque Guarda ho preferito Dare priorità Alla suspense Ho fatto una giocata Completamente mirata Potentissimo Mi dispiace Ho ucciso io All'inizio Guarda Potremmo fare pace Solo se È stato un grande litigio Povero Lapo È vero Poverino Tutto il game è morto Lapo Povero Lapo Però senti Non potevi neanche far parte delle indagini Poverino Sei morto così tanto che dovresti chiamare la polizia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Bertra Che schifo Mamma mia Bertra Che piazza Bombe sotto le automobili Fammi esplodere quella di Bertra Oh comunque raga avete rotto le palle di sospettarmi in ogni partita Cioè in ogni partita E sarà E curo E curo E sarà Ma che vuol dire Ma io mi arrabbio sempre Se mi dai colpa Senza motivo Prendi la macchina Che andiamo sulla pontina Non ci Vabbè ragazzi Dai ragazzi Mi spiace Ma non abbiamo ancora fatto pace No dai Finita la live E' la seconda volta che ti vuoi No Sì sì Oh no L'apocalisse sta arrivando L'apocalisse Allora lì sei rovinata Sto per prendere lo spigolo della schifania con la fronte Mi prego basta Ruberò l'ultima battuta alla chat No Dobbiamo smetterla Dobbiamo smetterla di accusare la povera Sara Grazie Grazie per cortesia Di dieci partite Sette era colpa mia Secondo voi Allora Io posso dire Posso dire Alla fine di tutto E sono Cioè mi dispiace Axel Mi dispiace Ti ho detto dopo parliamo Però Posso Mi voglio Mi voglio dare Dovete fare pace Una piccola pacca sulla spalla Per questa giocata Sinceramente Sì Ma io ti ho detto Che la tua giocata era perfetta Era magnifica Però il problema era proprio quello Che tu hai valutato l'amicizia A meno della tua intelligenza No È che per una volta Che ho fatto No ci avevi preso La tua giocata era stata magistrale Invece ci hai regalato la vittoria Esatto Hai regalato la vittoria Però scopi che hai tradito un amico È un amico per sempre normalmente No No Non è vero No Totta Eri stata Eri stata molto brava Cioè Grazie Sì sì Cioè È stato tipo Ma infatti qua in chat Eravamo tutti Minchia Mossa 2000 2000 2000 Inaspettata Inaspettata No Max Tu Con le persone ogni tanto Così magari non muori subito Ah Mossa È un'idea È un'idea Sì Magari se vai Anche io giro parecchio da sola Però ogni tanto Magari con qualcuno Un giro fallo E infatti mi accusate È vero Però Vabbè Prima o poi le task Tocca farle Cioè Non è che posso sempre star con la gente La poteva giocare diversamente Niente oggi non ce la fate proprio Non pare che Attacca su questa streaming Pare che lo fanno apposta 12 ore Redemption Arc Solo top Lenorn Ma non mi serve farlo Il problema è che la chat Sta andando dietro qua Cioè tipo La possiamo finire La potente Sara Cioè È diventato tipo La povera Sara La possiamo raccontare Sì sì Sto finendo Dai Dai Alla prossima Vai bene Ti brucia solo un po' il culetto Dovresti mettere la pomata Wow Questa brutta Faremo pace Dopo la streaming Va bene Va bene Ho provato a switcharla Su cura Dicendo sarà per la prossima E mi do tipo Sara Sarà No Non c'è Non arredo Mi spiace E beh To 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 Mi sa che la Non è Comunque Rages Top Investigatore VP dell'Investigator Stasera Lui gioca a livelli 6 Axel ha 6 schermi Con tutti le stream di tutti Ma non è vero Sono 7 gli schermi Quello di Lapo non gli serve Perché Lapo muore subito Ma non sta infierendo Poverino a me dispiace Per quante volte muore Dovresti istituire la polizza Basta Ti giuro chiamo la polizia L'ho già fatto Lapo se tu non vuoi Giocare con noi io lo capisco Non ti darò mai una cosa No al massimo farò un video In cui ci sarà la polemica Join the party Lapo join the party Esatto si è sacrificato Per tutti noi Che cazzo è Lapo Potete dire la potenza La possanza La possanza Al massimo La possanza La possibilità di tirare testate A Bertra è molto alta Il prossimo torneo di LOL Degli streamer Bertra Target sulla testa proprio Sì Mamma mia No Volete invitare Volete invitare Bertra A un torneo di LOL Tra gli streamer Raga Tutto Allora Raga Streamata solo su youtube Perché io ci tengo Al mio canale Sinceramente Non voglio Silenzio Tutti sappiamo Che è vero Bertra Ma è verissimo Fa ridere Ma anche riflettere Questi nato Il tempo Però sarebbe bellissimo Una live di me Solo al casclero La pornografia Ho rischiato il bumper Ma Sì L'abbiamo fatto una volta assieme Quando c'erano ancora I canali di visible L'unica cosa che senti Sono un bel Ma perché non Come Come Fieric LOL Fai Bertra LOL E basta Metti sulle due reggiate Perché Perché ci sarebbero Soltanto video Di 40 minuti Di me che insulto Le famiglie Di un gioco Ci stanno streamer Che fanno solo quello Come che fanno Beh sì Cioè Quello è content Vabbè raga Mi fermo al gradino Prima quello delle reaction Cioè sono scarso Ma non così tanto Scusate Va bene Ciao Bannati Sì Dobbiamo parlare Vabbè Io rimango qua Rimango qua Grazie per l'invito Rimane in live Così faccio il ride Eh io stacco Dimmi Quindi nessuno di voi Ma non lo voglio Iniziare a roncai No che non voglio Resist Non lo voglio Un altro gaccia Comunque Chi cazzo rimane in live Chi è che rimane live Chi Tu Rage Sì Però Ok Ora cosa c'è il ride Niamo da Rage Kuro porta tutta su Genshin Madonna Su Genshin si Conkai no Va bene Buonanotte Ciao 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 belli Grazie per i match Ciao 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 Silence La pace La pace La pace La pace I sensi Comunque Jules Grazie per i 74 mesi Benturaccia non ho neanche voglia di mettere la musica Non voglio la musica Niente musica Dicevo Jules grazie per i 74 mesi Per me è l'apo Poverino l'apo non è riuscito a fare niente stasera Povero l'apo Gli apostoli di Twitch grazie per i 4 mesi Si um si um nuovo gioco Si among us Ma in realtà ci abbiamo giocato tanto Ad among us però Fino a un paio di anni fa è tanto che non ci giocavo Infatti sono cambiate un sacco di cose Non ci so più giocare bene come prima Però due partite le abbiamo vinte da impostori Quindi yay Mawksir Grazie mille per i 4 mesi Bentornato Raga contempliamo il silenzio Quello devi giocare ancora con gli amichetti Sei bravissima Oddio in realtà non mi sono sentita molto brava questa sera Ero più brava una volta su among us Ormai è passato tempo Però si se magari giocare altre cose insieme Volentieri Si si con loro Mi sono divertita Axel col turbante No ma guarda Non mi va di scaricarmi Onkai e giocare anche a quello Eh cambiato tutto Io per niente Povero Lapo Mi dispiace Io non ti ho ucciso mai Io sono stata impostore Diverse volte Tante volte Però non ti ho ucciso mai Perché poi tu non sei mai stato impostore Che sfiga Cioè io sei 100 volte Più live con gli amichetti Gliele chiediamo Tra l'altro mi avevano chiesto Una run Non mi ricordo su che gioco Tempo fa Però io ero già piena di cose Quindi non l'ho potuta fare Ah il primo game e poi basta Ok Eh vabbè T'è andata di sfiga E io sono capitata A 600 volte impostore invece Grazie a tutti